Le persone, gli esseri umani, la gente, piace l'idea di amarsi tra loro e questo è anche un bene, ma le persone sulla Terra non possono amarsi per davvero tutte. Se io amassi per davvero tutti quelli che in questo momento abitano il pianeta, sentirei il bisogno di vedervi, di abbracciarvi, di telefonarvi per sapere come stanno e se non stanno bene, sentirei il bisogno di aiutarvi, se hanno fame, di dividere il mio panino, se hanno sete, di dargli da bere. Quando vuoi bere a qualcuno, se muore, ti dispiace per davvero. Io sono Francesco. Quando ero piccolo, se non volevo mangiare mi obbligavano. mi dicevano, Francesco pensa, pensa Francesco, ai bambini del Biafra. E c'erano anche le fotografie di questi bambini magri, magrissimi. A me che quei bambini non riusciva ad importarmi. Sì, mi dispiaceva, ma mi dispiaceva anche essere costretto a mangiare qualcosa che non avevo voglia di mangiare. E questo è un problema, Abdul. Perché a me, della gente che muore in fotografia, sì, in teoria, me ne importa anche, ma poi, infatti, non mi cambia la vita. Invece se un tuo parente o un tuo conoscente subisce un'ingiustizia o un dolore, o muore, non senti solo un dispiacere, senti un buco, una rabbia enorme. E questo buco di dolore è un dolore che ti passa da qui, ti entra dentro e resta qui. conficcato. Lo so, adesso mettiamo che uno che è nato a Lima, ha 26 anni, per caso sente dire alla radio che io sono stato ucciso. Quanto gli può dispiacere, onestamente. i morti sono fatti di numeri, non mi fa niente. Non mi fa male niente. Se mi sto allacciando una scarpa, continuo ad allacciarmela. Se mi sto bevendo un caffè, sì. Al massimo mi viene un pensiero triste, ma poi se ne va. È un rischio che corriamo, quello di non provare niente. non devi fingere di sentire qualcosa, negro. Se non senti un caffè, a me non frega un caffè. A me interessa storia. E questa non è storia, è sciretto col pensiero, pensiero complicato da negro. Racconta storia, se no mangi il kebab e non rompe il caffè. Con Abdul, quasi tutte le sere, facevamo queste discussioni. Io gli raccontavo i miei pensieri e lui mi diceva, non capisci un caffè. La maggior parte delle cose che gli raccontavo gli sembravano cose da negro. Cioè da bianco. Cioè da uno che non capisce un caffè. Leggito. L'ho conosciuto da lui nel 2009. In quel periodo lavoravo alla radio. Radio libera anni 90. Perché era stata fondata nel 1990, nel periodo dei socialisti al potere e di mani pulite. Dovevamo dare l'impressione di parlare di qualcosa, anche se in pratica non potevamo parlare di niente, perché vai a capire quelli. Berlusconiani, anti-Berlusconiani. In pratica dovevamo stare sul vago e mettere l'onda canzoni di Dalla, di Gregori, di Andrè. Mi avevano preso per un programma in tarda serata che parlava di località turistiche e astrologia. Ogni sera una città del mondo con musica, anni 90 e qualche kit. La gente chiamava e raccontava qualche aneddoto del tipo, ah sì, a me è successo questo, ci sono andato in questo posto. Incidenti di percorso, cose buffe, amenità. Tipo una era rimasta chiusa nelle catacombe di Parigi. E dopo la trasmissione non mi andava di tornare a casa a mangiare da solo, ma in radio a quell'ora c'era solo il citto, un tecnico del suo, un dito magro, un cazzoso, che se finivi con 10 secondi di ritardo si nervosiva perché a lui della trasmissione non gliene fregava un cazzo. Voleva solo tornare a casa, aveva una compagna, la moglie, e l'aspettavano per farsi cammino e scopata. Così slegavo la bici e andavo da Abdul. Mi piaceva mangiare il kebab da quell'egiziano sulla cinquantina, la faccia gommosa, lo sguardo profondo. Abdul faceva degli ottimi kebab. Il pane lo faccio io con questa cazzo di mare, la sera faccio impasto con farina, chilometro zero, e acqua del rubinetto, chilometro zero, poi metto forno legna, chilometro zero, e anche carne di montone, cazzo sono montoni miei, li allevo io a fornalini, liberi di mangiare, correre felici. Abdul nel suo locale parlava di quello che gli girava, ma soprattutto faceva parlare. Se capiva che eri lì, solo per mangiare il kebab e magari avevi pure fretta, si metteva a posto a fare tutto piano, piano, piano. Allah fa di noi quello che vuole. Se vuole, Allah fa stare universo tutto dentro il vasetto olive. Se vuole, Allah fa stare universo dentro piccolo uscellino. Come chiama uscellini piccoli che vengono a mangiare la brisciola fuori dal negozio? Come li chiamano? Eh? Pa, pa, se, ro, ti. E' uguale a chiasso. Universo, tutto, passato, presente, futuro, fa stare dentro piccolo uscellino. Mi credi? Non mi credi? Tu hai fredda? Vai a mangiare il kebab, non rompere il cazzo a me. Appena entravi, Abdul tallungava da dietro il suo tè nero, bollente, servito in un bicchiere di plastica sul punto di fondersi. Bevi, negro, o mi offendo? Il fatto che lui chiamasse negro tutti i bianchi che entravano nel suo locale faceva parte del programma di selezione della clientela. Non ti piaceva essere chiamato negro? Devi che devi andare. La clientela di Abdul si selezionava così. Era per di più gente di quartiere, africani, nord-africani, qualche uruguaio e qualche negro. Avevamo in comune il fatto di essere soli, di non avere nessuno con cui mangiare. E di essere alla ricerca di qualcuno con cui scambiare quattro parole, anche se alla fine lo scambio consisteva nel fatto che tu parlavi e Abdul ascoltava. Arrivavamo lì, ci sedevamo, bevevamo il caffè di Abdul. E dopo un po' qualcuno iniziava a parlare dei suoi problemi, problemi con la moglie, il figlio, il contratto di soggiorno, il lavoro in nero. Abdul ascoltava tutto, non interrompeva quasi mai. Le palpe d'era abbassate, lo sguardo fisso sul tavolo di marmo, le mani infarinate. Poi si strofinava le mani sul grembiule, annodato stretto sotto la pancia e scriveva in fretta i suoi appunti. Se la storia era buona, il kebab era in omaggio. Abdul era un ladro, un ladro di storie. Rubava le storie agli altri e le scriveva a modo suo, nel suo stile asciutto, senza fronzoli, e le pubblicava sulla rubrica del giornale di quartiere. Abdul c'è! Quella rubrica era la sua ragione di vita. Appena arrivava il giornale di quartiere, lui ne infilava un po' sul bancone che aspettava. Se chi entrava era di fretto, non si metteva subito a leggere la sua rubrica, lui diceva, che caso fai, negro? Hai letto? Com'è? Bello, bello! Grazie, negro. Racconta tua storia. A me la storia non mi veniva. Ero in radio l'altro giorno, facevo la mia trasmissione e abbiamo parlato di Shampoo Looker, una località in montagna doveva sciare il cito. Chi è il cito? È il tecnico del suono. E allora? Niente, mentre si infilava la giacca, prima di uscire mi ha detto, Shampoo Looker del Capricorno! Ma che cazzo vuol dire Shampoo Looker del Capricorno? No, niente, infatti è una cosa che ho detto io in trasmissione. Sì, ma che cazzo vuol dire? No, niente, perché durante la trasmissione dobbiamo parlare di località turistica, astrologia, allora sì, siccome è quel luogo in montagna ho pensato di dire che era del Capricorno. Ma mi sembra una cazzata! No, sì, ma infatti è una cazzata. Ma che cos'è? Che cos'è Stambeco? Beh, una capra molto più alta, con le corna lunghe, così. Belle! È bello, negro, ma non è storia. Racconta storia, dai, racconta storia. È così. Andavo alla radio, facevo la mia trasmissione. Il cito mi guardava come uno che pensa, è una trasmissione del cazzo! Sì, anch'io lo pensavo, ma non potevo fare niente. Volevano un programma così o niente, e io dovevo lavorare. E così, dopo Shampoo Looker ho fatto Pia, Curmaior, il Trentino Alto Adice, e poi sono passato alle località di mare. Una merda, insomma. Il cito non mi parlava neanche più. Slegavo la bici e andavo tanto. C'era un negro! Ce l'avevo. Fammi un arrotolato, con salsa piccante, salsa yogurt, tanta cipolla e nomaio. E salsa bianca? Non ne vuoi? Extracomunitario, fastidioso. Eh sì, mettimi anche la salsa bianca e tanta cipolla. A me, quando mangio da solo, mi piace fissare lo sguardo, concentrarmi su un disegno, la lista degli ingredienti, sulla tovaglietta. E quando stavo da Abdu, le alzavo lo sguardo, c'erano le cartoline. Ti piace Egitto? Eh sì. Ci sei massato in Egitto? Beh, ci sono in questo momento. Vedi che bello mare. Sole. Molto più bello di sole di Milano del caso. Guarda! E mi dà una cartolina con un sole enorme. Bella. Davvero. Molto bello. Ci devi andare! In Egitto, negro. Così mandi cartolina e metto qua, dove scelto sto vuoto. Al momento la vedo difficile. Sto lavorando tutti i giorni, è finita questa trasmissione, parto. Vado in montagna a registrare un documentario sul silenzio. Documentario sul silenzio per la radio, un'altra cazzata. No, no, no! Vado a parlare con queste persone che stanno in questi posti dove non c'è niente, non c'è kebab, supermercati, e chiedo a loro di parlare dei rumori che sentono. Rumori naturali come le vacche, le campane delle vacche, il latte quando lo mungi, il vento, la pioggia. Ti pagano per questo documentario. No, non molto, però è un programma mio. In questa radio fanno solo programmi stupidi e questa volta mi danno fiducia. Ma là è grande! Magari ti licenziano, così vai in Egitto e mandi cartolina. E' bello, si è bello lui, eh? Se mi licenziano non vado da nessuna parte, raschio il fondo del barile, lascio la stanza e torno dai miei, in provincia. Non sei di Milano, negro! No, sono il concorrezzo. Sai dov'è il concorrezzo? È una pezz'ora di macchina da qui. E' bello, paese di concorrezzo. Allà dice che devi amare il tuo paese, perché il tuo paese è sempre il tuo paese. Va bene. E ti arro conto la prossima volta che ci vado. E tu da quanto tempo non torni in Egitto? Abdullo non risponde. Lo vedo che è armeggia con l'apri scatole. E' una latta grande di salsa di pomodoro. Ha lo sguardo assorto in qualche lontananza che vede solo lui. Abdullo! Tu da quanto tempo non torni in Egitto? Fatti i cazzi tuoi! Parsi volta di schiena! Sciacqua le mani sotto il rubinetto! E sparisce nel retro! Mi sento le guance calde come se avessi ricevuto un ceffone da mio padre. Resto seduto ancora un po', in silenzio. Guardo la porta che sta sul retro. Aspetto che si apre, che Abdull torni sorridente a dirmi scherzavo, negro. Ma non succede. Si sentono le macchine fuori. Il rumore del neon che sfrigola. Abdull è ancora nel retro. Mi è passato l'apetito. Lascio sul tavolo il kebab avanzato. Cinque euro. Esco. Ancora. Non ci credo che Abdull sia così. Uno che reagisce in quel modo con quella faccia brutta che non gli avevo mai visto. Cazzo, ma che schifo. Che schifo. Che schifo. Slego la bici e me ne vado in giro così, pedalo veloce senza navega. Certo. Lo strozzo! Può permettersi quello che vuole, eh? Come può scherzare? Può chiamarmi negro? E io devo ridere ma devo stare al mio posto. Arrabò di merda. Egiziano di merda. Vatti a fidare dell'arabo. Non sono come noi. Fanno gli amiconi finché gli pare ma in fondo ti disprezzano. Egiziani! Quella gente lì ce la fanno a cambiare loro perché ce l'hanno dentro. La violenza. Cultura del cazzo. Problemi loro, vai. Si fotta, si fotta. Stronzo! 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 Tu! E i tuoi kebab di merda! E pedalando veloce e sentendomi tutto il vento addosso mi sento bene a pensare a queste cose di appunto. Che non siamo amici! Che mi ha risposto così! Senza motivo! E non ci metterò mai più piede nel suo kebab del cazzo! Egiziano di merda! Arrivo a casa accendo una luce spengo la luce vi faccio una canna e per un po' da quello stronzo non ci sono più andato. Chambuluc è una località di montagna adatta a tutta la famiglia ma non è finita qua. Pensate che la valle di origine glaciale ospita migogliosi boschi di pini larci e abedi che si congiungono ad ampie praterie alpine dove durante la bella stagione grandi e piccini possono intraprendere avventurose camminate nel bosco e trekking d'altura. Chambuluc è del capricorno. Le caratteristiche del sito del capricorno sono riconoscibili a quelle del suo animale guida o nero lo stambeco. Si tratta di un animale fierissimo dotato di muscolatura grandiosa che gli permette di raggiungere vette incontaminate. Infatti in Val d'Aosta ci sono le montagne chi non lo sa montagne altissime molto innevate immagino. Qualcuno ci racconta di Chambuluc una grolla con troppa grappa una ciaspolata galeotta. Una sera io e il Cito abbiamo fatto una riunione per concordarci su alcune cose del documentario. sono uscito dalla radio che era quasi mezzanotte. Avevo fame. Passo con la bici davanti al negozio di Abdul vedo la luce accesa. ho fame entro il pavimento è ancora bagnato faccio passi lunghi per lasciare il minor numero di impronte possibili e mi siedo al tavolino. è tardi negro mangi domani non gli rispondo capisce? non posso farti da mangiare ho già finito tutto è la mia testimonia cipolla finita niente insalata salsa pomodoro tutto finito vuoi mangiare kebab solo con patatine fredde vuoi questo? vuoi mangiare vergogna d'escito? si fammi quello mi fa il kebab mi da il tè freddo e il giornale con la sua rubrica tieni lesci un uomo va a fare la preghiera di venerdì nella moschea e davanti alla moschea incontra un uomo che gli dice Dio è capace di tutto può comandare su tutto sul tempo sullo spazio se lui vuole può ridurre tutto questo mondo alla taglia di un uccello l'uomo lo guarda risponde ti renderei conto immagino che quello che mi dice è ben difficile da credere lo lascia va a fare la preghiera si mette davanti al lavatoio per fare la preghiera ci cade dentro e si trasforma in una donna e si trova davanti al mare arriva un pescatore la vede e le chiede ma cosa fai qui mi sono ritrovata qui se non hai un posto dove vivere vieni con me alla moglie il pescatore dice ho trovato questa donna al mare possiamo ospitarla va bene questa donna può stare con noi passano gli anni e il pescatore e sua moglie provano provano ma non riescono ad avere figli allora il pescatore per avere figli prende in sposa la donna portata dal mare lei gli partorisce un figlio poi un altro figlio poi una figlia i figli crescono il pescatore diventa vecchio un mattino il figlio più grande decide di andare al mare a pescare mentre pesca guarda al mare gli viene volga di farsi una nuotata si spoglia si butta nel mare nuota 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 e mentre nuota diventa l'uomo nella moschea proprio nell'istante in cui si sta lavando le mani e le braccia per fare la preghiera esce incontra lo stesso uomo che stava davanti alla moschea si avvicina a lui e gli dice avevi ragione avevi bisogno di partorire tre figli per capire che avevo ragione non mi va di dargli soddisfazione dìgli che mi è piaciuta piuttosto schianto amico ti sei offeso per quella cosa in Egitto non posso tornare avevo paura di morire ho lasciato tutto moglie figli fratelli tanti tanti amici cavete studia università programmazione informatica e multimedia tu immagini che va e io pago università caled sa che vuol dire nome caled che ci sei sempre che non muori mai eterno e tu come ti chiama negro non ho mai chiesto Francesco e che vuol dire nome nome Francesco ma no niente un santo che parla con gli animali perché tu parla con un animale no sì c'è un cane una femmina lo legano sempre fuori al supermercato e quando la vedo la saluto Francesco Abib porta tua storia offro io che pab quella sera c'era luna piena ero contento io e Abdul siamo amici un'imitore 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 Una domenica mi viene a prendere il citto e mi dice Bellino partiamo! Il viaggio era lungo, dovevamo intervistare circa 70 persone, tra pastori, monaci e gente che vive in paesi semi-abbandonati. Il citto mi viene a prendere con la sua Volvo 240 e mi dice Ho comprato le caselle da neve, tu le sai mettere? Cazzo, era il 4 di agosto. Dopo le prime ore di autostrada in cui siamo stati zitti, ma proprio zitti, ho cercato di fare un po' di conversazione. Il citto ha messo subito dentro uno dei suoi cd per farmi capire che se stavamo zitti era meglio. Se gli piaceva una canzone, la rimetteva subito, da capo finiva la traccia, tac, ricominciava. Cazzo, questa è una storia che io posso raccontare ad Abdul e gli racconto del mio viaggio col citto. Metteva sempre una canzone che fa Gimmi, non credi che a questo punto della nostra vita potremmo concederci un pranzo da pascià? Scusa, non potremmo mettere un po' di radio. Ha messo Radio 3 e da lì non si è più spostato. Dalle Alpi agli Alpeggi fino alla Siria ed in certi paesi della Sardegna. Una mattina di prima domenica il citto accende la radio. Si parla dell'Egitto. i manifestanti contro il regime di Mubarak sono scesi in piazza Tahrir e protestano contro le forze della polizia. Scusa, ma tu ne sai qualcosa dell'Egitto? Stai zitto, dopo ti dico. Va bene, dai, allora dopo mi dico. T'ho detto dopo, che eri? La giornalista dice altre cose sull'Egitto. Io aspetto che finisca per farmi spiegare che cosa succede. La trasmissione finisce e il citto mi chiede di inrollarmi una canna. In Egitto la gente è stanca, come tu avrai capito. La gente è stanca perché Mubarak ha governato col sostegno dell'esercito e ha fatto sempre gli interessi di una casta. I poveri non hanno lavoro, c'è crisi e nessuno ha una soluzione. Solo che adesso ci sono forze ancora più pericolose di quel fattoccio di Mubarak. Forze ancora più brutte, ultra religiosi, che non vedono l'ora di prendere il potere e istituire uno stato confessionale. Tu lo sai cos'è uno stato confessionale? No, perché tu non sai un cazzo. È come se i nostri preti prendersero le armi e ci obbligassero a seguire le loro regole. Che bravo che sei! Ma dovresti tenere una trasmissione di politica internazionale. Ma secondo sé, folfonico perché gli intervistatori vi stanno sul cazzo. Comunque, quello che quel giornalista non ha detto è che anche noi ci siamo dentro a questa porcata. Noi, io, te e tutti gli stronzi in generale. Noi fino a pochi mesi fa con Mubarak ci si andava a braccetto. Noi, Italia, le fabbriche. Noi a quello gli formiamo le armi. Le armi che lui e i suoi amici usano per sparare sulla gente, per ammazzare gli oppositori politici. Non li fa tre tiri, se no va fuori. Le armi e il gas. Noi con l'Egitto ci abbiamo leni, ci abbiamo i gasdotti. Ma te tu l'ha letto, petrolio di Pasolini. Te non sai un cazzo proprio. Fai la radio, fai gli oroscopi, ma buttati nel cesso. Comunque, quello che io voglio dire è che noi con l'Egitto ci abbiamo gli interessi economici. Tu lo sai cosa sono gli interessi economici? Ma sì, certo, gli interessi economici, è chiaro. Chiaro è una piatta fada! Mubarak, quando vedono in Italia, Berlusconi gli ha stretto la mano. Gli ha fatto le feste. E secondo te perché? Beh, non lo so perché, perché saranno amici. Ma a te tu sei fuori, eh! Metti un cd psichedelico, va! Non l'avevo mai notato, ma il cito ha una cicatrice qua, vicino all'occhio. Ma che cosa ti sei fatto? La mia compagna! Ti cavamo! Mi ha lanciato una caffettiera. La sera che sono tornato a Milano, pioveva. Mentre slegavo la bici, ho visto che il negozio era chiuso. Sotto la serranda, abbassata, alcuni numeri del giornalino di quartiere diventati con la pioggia e con il vento carta straccia. Sopra la serranda, un cartello, scritto in arabo e in inglese. Siamo tutti Khaled Saeed. Khaled, l'Eterno. Cerco su Google. Mi compare un link ad una pagina scritta in inglese. La pagina è stata scritta in seguito al brutale assassino di Khaled Saeed. E l'intento è quello di combattere gli abusi esercitati da questo governo, legittimati dalle leggi speciali del 1980 che consentono alle forze di polizia di esercitare qualunque arbitrio sul cittadino senza dover dare in cambio alcuna motivazione legale. E poi c'era la foto di Khaled. E io avevo la mia storia. La mia storia per Abdul. Io nel bar sotto casa dei miei ci sono andato per prendermi un cappuccino perché i miei non bevono il caffè. Così ero seduto al tavolino. Non faceva freddo. C'era questo tipo che era al tavolo con una fidanzata. E poi c'era questo cane che girava lì intorno. Una femmina, mi sembrava. Ma non faceva niente. Non disturbava. Ma lui pretendeva che questo cazzo di cane andasse a sedersi proprio lì, di fianco a lui. E diceva, vieni qua! Vieni qua! E il cane stava un po' più là. E lui diceva, vieni qua! Vieni qua! Così a un certo punto la tipa inizia a dirgli, ma scusa, ma a te che te ne frega? È lì, non è qua. Ma che ti cambia? No! Deve venire qua! Tu devi stare zitta! E lui deve venire qua! A quel punto, siccome il cane non gli obiettiva, lui si è alzato di scatto e è andato a prenderlo. E l'ha riempito di calce sul fianco e pugni addosso. Non c'era tanta gente, saremmo stati cinque, dieci, ma che cazzo fai? Nel senso, non è che era uno sfogo che aveva a che fare col cane, ma era uno sfogo che aveva a che fare con la pazzia di questo qua. E il cane stava fermo a terra, gli mancava il respiro, quando che prendi un pugno qua e rimani terrorizzato. Che poi sono quelle situazioni in cui a me sale il demonio, no? E anche se c'è qualcuno più grande di me, a me viene da andare, da dirgli, senti, ma tu pensi davvero di farmi paura? Guarda che io sono più matto di te, eh! Solo che in quel momento io ero terrorizzato perché, perché avevo passato la paura perché mi veniva da piangere e quindi non riuscivo a fare niente perché non è uno scippo che dici vabbè dai lo inseguo ma è qualcosa di più grande, qualcosa che aveva a che fare con non lo so. poi le botte per il cane per lui erano senza ragione lui se ne stava lì tremava ma non capiva perché e io che potevo agire in prima persona non ho fatto niente perché temevo per l'incolumità della mia faccia ma anche per l'incolumità della mia vita così alla fine dici vabbè ne paga le conseguenze più debole Khaled Saeed aveva 25 anni quando è entrato nel suo internet caffè a Sitica Bear in Alessandria arrivano dei poliziotti e gli chiedono il documento di riconoscimento l'unica colpa di Khaled è stata quella di chiedere perché volete perquisirmi l'hanno riempito di calci e pugni alla pancia poi gli hanno fracassato il cranio contro il tavolo di marmo e poi l'hanno portato alla stazione di polizia seviziato torturato e alla fine il suo corpo è stato gettato per strada per simulare un'aggressione da parte di sconosciuti Abdul non è tornato io me lo immagino in piazza Tahrir con i suoi amici la sua famiglia quelli che ancora il regime non ha fatto sparire o non ha ucciso questo è mio mondo questa è mia la rivoluzione il kebab ha riaperto circa sei mesi dopo la ragazza che lo gestisce non è araba è cinese il suo compagno gli ha suggerito il nome del locale l'insegna luminosa che c'è fuori la nipote di Mubarak fa ridere perché l'Italia dell'Egitto non sa niente perché non è una cosa italiana riguarda il presidente del consiglio la figa le tette Barbara non sa di Abdul ma quando le chiedono finge di sapere chi sia dice Abdul sì sì quello della rivista Abdul c'è Abdul c'era che però adesso non c'è più c'era una volta ma adesso ma che cazzo dici vabbè dai sì non si può più scherzare adesso veramente non si può più scherzare puoi leggere questo ad alta voce grazie Since IHCC's rise to power in Il Coup d'Etat in 2013 the condition of human rights has always gone more deteriorating in Egypt according to data from human rights organizations around 60,000 people were imprisoned between 2013 and 2017 in addition cases of torture in prisons and disappearances have increased according to Amnesty International at three four cases per day from 2015 to 2016 and the number could even be higher since many families do not report disappearances for fear of retaliation the Arab Network for Human Rights Information says the state of emergency was not implemented to strengthen security in the country but rather to quote suppress freedom of opinion expression and belief and human rights unquote period alle persone gli esseri umani la gente piace l'idea di amarsi tra loro e questo è anche un bene ma le persone sulla terra non possono amarsi davvero tutte i morti della televisione sono morti fatti di numeri senza faccia non mi fa niente non mi fa male niente è un rischio che corriamo quello di essere abituati a considerare quelli che spariscono e che non conosciamo che non parlano la nostra stessa lingua che non credono nel nostro stesso Dio che mangiano o pevono cose diverse dalle nostre siano formiche di essere abituati a pensare che quelli che vengono picchiati e poi fatti sparire torturati pestati e poi fatti sparire sediziati tagliuzzati e poi fatti sparire bruciacchiati tagliato la lingua pezzi di orecchi capelli strappati spattuti contro il muro la testa sul pavimento la scossa sui capezzoli sui coglioni siano formiche sono formiche grazie 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 a tutti. Ah, grazie per l'italiano. Perché... Regeni, la vicenda di Giulio Regeni, perché casualmente una sera stavo guardando la televisione, cioè sapevo di Regeni, però non sapevo che in Egitto ci fosse questo tipo di regime e che l'Italia fosse tra le prime a spedire una quantità di armi esagerata. E' la cosa che per me è più folle, il fatto che noi italiani, che abbiamo il Papa, quindi è, spediamo tutte queste armi che vengono usate per uccidere persone che contestano il regime egiziano. No, quello che ha scritto su Regeni non è ancora andato in scena. Sì. Sì. So the inspiration of this text, for the author who wrote it, and of the piece also that Mark is writing, Giulio Regeni, probably it's a name that doesn't mean anything to you, but in Italy it was a very important case of an Italian student that went to Egypt and he was arrested and he was arrested and he died, was killed in an Egyptian prison, if you remember correctly. And the day, the year in which this happened? The year? L'anno, sì. Tipo sei anni fa. Sì. Circa sei anni fa. 2016, 2017. So in Italy it became, at least it became a name that was recognized in many city halls, and many public offices had flags with the name of Regeni in which they were asking justice for these young Italian who was killed in an Egyptian prison. So, almeno se ne parlato in questo caso. But what Mark was saying is that it was also a moment for him and for many Italian to realize how much Italy gave to Egypt in terms of weapons, of arms, that were inevitably used to suppress protest and to eradicate any form of political dissent. And the thing is that we've got a Pope in Italy. So that's crazy. The Pope has no fault. No, I know, I mean, Pope, when every Sunday he comes to the window to say, peace, no homosexuality, no dogs, don't love dogs, but I think he should talk about gun. Other questions? Isabel? Isabel. Si, mi vergogno di fare questa domanda, ma la devo fare. Chi è il signore sulla tua maglia? Allora, adesso non mi viene il nome, ma è un famosissimo attore. Davide, aiutami, come si chiama? E' un famosissimo attore. Davide, come si chiama? Toglianzi. 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 One of the kings of comedy, Italian style. Ma te la sei messa apposta? C'è un significato? No, la scelta, quando è nato questo spettacolo, la scelta, la costumista e la uso sempre. So it was chosen by the costume designer, and so he uses it all the time. Ha scelto pure lei la maglia rossa, c'è questo rosso così intenso? Sì. Ha un significato? Perché mi ha colpito. E' bel sangue. Sangue. Poi in teoria qua ci dovrebbe essere una, in genere c'è una piramide molto grande e in genere c'è perché il pubblico sta sul palco e io sto giù in genere. Noi, perché? So usually there is a piramide, but there is a structure. As Stefano said in the 2013 video, he said, We welcome everyone, even if it's a small, you know, for the festival, they have to adjust, and so we don't have the period of it here, but we have the festival. We have not. That's all that matters. The question regarding the title of your piece, that of course, in Italy, it has a meaning that it's immediately understood by everybody, but probably in the States, it's lost, and I think it's very interesting the fact that the audience has going to see a performance in title La Necote di Mubarak, and then they arrive, and they see this fantastic piece of art. It's like a punch in the stomach, because there are no, like, sublettine, and how many of you are familiar with La Necote di Mubarak? Who is this Mubarak's niece? In the audience who are not Italian, obviously. Have you ever heard of it? No. It was one of the stunts of Berlusconi. I have to tell the story. Yes, you can see. It's a fun story, so. Do you have to also explain Berlusconi for some of that? No, Berlusconi was the Italian prime minister, probably right here. He's the one who brought the new fascists to the government, and he has been charged with all sort of accusations of going into corruption, and he has been sentenced by a tribunal. Three courts in consecutive order found him guilty, so he didn't go to prison because he was supposed to go to prison, and our system doesn't let all people go to prison, otherwise he would have gone. But, and the story is that among many other things, this is one of the most spectacular picturesque, we're calling it education, at a certain point, a young woman is arrested in Milan for, accused of something to do with drugs or prostitution. And lots of money. And lots of money. So at a certain point, the Questura, that is the police precinct of Milan, the central precinct of Milan, receives a phone call for the Questura, which is the head of police, from Palazzo Chichi, that is the palace where the prime minister resides, that gives a little speech to the head, the police saying, They are saying, coda-coda, like, heart-to-heart, listen, do not get as involved in an international incident that would be very detrimental to Italy. The young girl that your men have apprehended is the niece of the president of Egypt, Mubarak. And the Questura that the president says, well, she has a Moroccan class. No, no, believe me, she is the niece of Mubarak. And if you arrest her, it's going to be a mess for the entire country. So, like, I'm going to send somebody that I trust, who is a regional councillor, so a person to the regional councillor, maybe even a commissioner for social services, and that is going to come and take her into her own cognizant, and take her own, and the thing is going to finish there. So that, the Questura obeys the order, basically, that he received. And this young woman, Mubarak's niece, is taken by this woman whose name was MiNative, if I remember correctly, on the before entering politics, she was the dental hygienist of El Luscovi. We gave her a seat in the regional council of Normandy, the richest region in Italy, and was developed. And this woman, also a young woman, beautiful woman, goes to the police precinct and takes this young woman into her own custody, and she basically brings her back to the home of the house of prostitution, where this young woman was today. This story, then, was uncovered by the press. The story came up. So, I don't tell you the memes about Mubarak, it was like, it became a sort of expression, you know. And the most infamous thing in the whole story is that when these events landed to the Chamber of Deputies, that is, to our Congress, and there was an official interrogation about the fact that happened, especially about the fact that the Prime Minister gave an order to the Chief of Police to break all the laws by telling a lie, the majority of congressmen said that they did believe that Perlusconi was in good faith convinced that this woman was with Mubarak's niece. So, now you know the story of the title, and you can imagine the impact that people have. I think there was a story of the case, and they're confronted with this. Do you have any reaction when people come to see your piece, and then they expect something else, and then they find this, or they more or less know what to expect? But I think people, before coming, they know that I'm talking about the situation in Italy. Because we did it many times in Italy. Yeah, yeah, yeah. Another question? Question, comments? And tell us about what you're writing about Virginia, in your order of the text that you are writing. Yeah, it's a text called senza voce, means readless. Voices. 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 Ne traducite? Well, l'ho scritto io e diciamo arriva fino a poco prima che lui sparisce. Dovevamo debuttare con questo testo a Roma, all'Eliseo, ma ci hanno fermato. La famiglia non ha voluto, neanche il loro avvocato. Sono tutte cose che tutti sanno, però non hanno voluto. Cioè, arriva fino al momento perché cosa succede? Regeni doveva andare alla festa di un compito. il compleanno di un suo amico, esce di casa, sparisce. E poi il corpo viene trovato in autostrada. Invece io, nel testo, esce di casa, entra in metropolitana, ma invece cade nel buco di Alice del Paese delle Meraviglie. e prende tutta una piega surreale. Ma è verosimile. Perché Marco non si rappresenterà o stai ancora pensando che si possa rappresentare? No, vorrei non parlare di nuovo di sparizioni forzate. Perché comunque è già questo l'opportunità, sì. Marco è pronta per andare avanti. Si. Qual è la prossima cosa? Sto pensando all'Uomo che ride di Victor Goh. Vai in un classico. Si. Però... Eh, va bene? Volentieri. Francesca. Come... Hai avuto qualcuno nel pubblico che in qualche modo, in realtà, quello che tu denunci lo appoggia, per cui ti ha poi detto, no? Che ha manifestato il fatto che quello che tu denunci invece secondo questa persona... Hai sentito? No, non me l'hanno mai detto, però c'è sicuramente una parte sempre devota a Berlusconi che dice, vabbè, però... Sì, però non è proprio così... Ma è una reazione normale, non c'è nessuno che ti ha fermato e ha detto tu hai paio di spalgi? No, no, questo no. No, no, questo no. Ma questo non succede perché veramente nessuno... nonostante tutta la campagna su Regeni, nessuno sa cosa succede in Egitto di noi. Cioè, se tu... Noi Regeni sappiamo chi è, ma se poi tu chiedi, dici, ma cosa ha fatto Regeni è... nessuno ti sa dire tante cose. Sì, io chiedi se... nessuno in l'audience... tutto quello che è denunciato questa persona o persone... invece... si accadeva con le cose che è denunciato? No, per sicuramente... ci sono persone, ma non c'è nessuno di me... e anche noi non c'è nessuno di Egitto... non c'è nessuno di noi... ok... bravo Marco! bravo! bravissima!